Sì, ieri abbiamo avuto un'audizione con la quarta commissione consigliare del comune di Palermo e abbiamo appunto proposto un breve regolamento sulla linea degli altri regolamenti che abbiamo trovato anche online dai comuni italiani, appunto per regolamentare quest'area sgambo, ma in realtà di fatto anche per crearne delle nuove, perché Palermo non ha tantissime aree dedicate allo sgambamento dei nostri amici quattro zampe, che non dimentichiamo hanno bisogno invece di socializzare con gli altri quattro zampe, hanno bisogno della passeggiata quotidiana e sicuramente non è il massimo far fare solo su marciapiede e tre palazzi. La regolamentazione si vada soprattutto su quello che i conduttori del cane appunto devono monitorare e quello a cui devono fare attenzione, non dimentichiamo le deiezioni di cui i marciapiedi purtroppo sono tuttora pieni, nonostante si faccia tanta informazione, nonostante ormai tutti conoscono la possibilità di utilizzare i sacchettini o le palettine, purtroppo i marciapiedi sono pieni, noi riceviamo come nucleo di guardia tantissime segnalazioni di donne con carrozzine o anche disabili che hanno difficoltà persino a muoversi appunto sui marciapiedi, nelle discesie dedicate appunto ai disabili, perché trovano sporco. Infatti ieri è stato un punto molto importante su cui abbiamo battuto anche con il presidente della quarta commissione consigliare, gli animali se potessero decidere possibilmente non sporcherebbero dove non si può, quindi siamo noi che dobbiamo ovviamente dettare la regola in tal senso, dobbiamo capire che viviamo sullo stesso suolo, quindi è come sporcare a casa propria, questo è un messaggio che mando io alle persone al di là degli animali, anche per chi getta la carta per terra, dico intendiamo, c'è la cicca e la sigaretta, cioè è come farlo a casa propria. Di fronte al castello della Zisa c'è un'area che potrebbe benissimo essere destinata all'area sgambamento cani, c'era stato presentato un progetto qualche anno fa oltretutto, poi ci sono ovviamente, se dovesse mai riaprire il parco che c'è in via d'Ernesto Basile, sarebbe assolutamente da considerare una grandissima area sgambamento, poi in realtà noi le proporremmo in ogni quartiere, cioè sarebbe giusto poterle avere in ogni magari circoscrizione, se vogliamo chiamarla così, un'area sgambo dedicata ai quattro zambe. Noi abbiamo al momento proposto quella proposta dall'Anci, che in realtà è ben fatta, ovviamente poi da considerare se si vuole rivalutare qualcosa, o modificare qualcosa, noi siamo sempre a disposizione, ma al momento potrebbe essere una buona base di partenza, ovviamente a cui il regolamento dell'area sgambo sarebbe collegato.